Aziende operanti nel settore del Pellame, del Calzaturiero, del Fermano e del Maceratesi avevano messo in piedi un sistema per il recupero fraudolento di creditiva beneficiando di compensazioni e rimborsi attraverso un sistema di fatturazione di operazioni inesistenti conosciuto come Frode Carosello attraverso la creazione di società Fasulle nella Repubblica di San Marino, in Slovacchia e in Romania. L'indagine condotta dal nucleo di polizia tributaria di Ascoli Piceno ha svelato un meccanismo che ha causato danno all'erario per oltre 33 milioni di euro per 100 milioni di euro di fatture false, 82 milioni di euro di imposte sui redditi e vasi, 32 le persone denunciate con l'accusa di associazione a delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documentazione contabile, indebite e compensazione di imposta e falsità in scrittura privata. Le fiamme gialle a Scolane hanno segnalato agli altri reparti della Guardia di Finanza sul territorio nazionale fatture per operazioni inesistenti per 14,3 milioni di euro. Prove 7,3 milioni di euro in relazione alla violazione della normativa antiriciclaggio, un sistema consolidato e spalmato in quattro anni di attività dal 2007 al 2011.